buongiorno salve guardi in camera cos'è? è una cosa veloce? assolutamente sì siamo con siamo con? con chi? io sono da soli quindi dopo che siamo da soli siamo con? con una bottiglia di barbara dopo la bottiglia di barbara con chi siamo? siamo con? la panna cotta frutti di bosco è tutto il menù no? dopo il dolce con chi siamo? siamo con la vecchia romagna la vecchia romagna quindi dopo la vecchia romagna vado in campagna a camminare e quindi dopo siamo con? saremo un po confusi dopo a certo punto un po di confusione arriva le birre me ne porto in campagna dopo le birre con chi siamo? a pelichena sul prato benissimo caro guarda sei stato fantastico ciao ragazzi ciao carissimo stai bene?